Wohei Kuj, ben ritrovati da vostro, andrei in Chromantuno in un nuovo video di Yo-Kai Watch Wibble Wobble e direi anche finalmente. Nel video di oggi andrò a fare un po' di pull, dato che comunque sia la slot Kai Oni da un paio di giorni regala SS e ranghi S. Ed è una cosa abbastanza carina devo ammettere, hanno fatto per l'anniversario sia per gli americani sia per gli italiani, hanno fatto tornare diversi Yo-Kai tipo Uno che vorrei trovare è Comastar, ma secondo me è impossibile trovare Comastar, Comastar lo vorrei più che altro per cercare di riuscire a fare un po' più di punteggi quando gioco Perché comunque sia io faccio punteggi tra 500.000 e 600.000 ogni volta ma sono pochi, non bastano per fare tanti i money e quindi insomma ne faccio intorno alle 250-300 massimo a partita E ci vuole un bel po' di tempo a farmare tutte quante queste monete Quindi oggi oltre a cercare di pullare Comastar cercherò anche altri Yo-Kai che comunque sia possono essere interessanti Vediamo un po' Bluetooth Sì va bene, Bluetooth non è male L'ho reclutato quando gioché la prima volta Ma non so se lo userò ancora perché Ok è uno Yo-Kai buono ma Finisce lì Non è di grande aiuto per comunque sia per i punteggi bonus e cose varie Vediamo un po' il prossimo Chi esce, chi esce Oh però un altro oro Oh, KanKanM Questo faccio subito lo screenshot, lo mando subito su Instagram Almeno facciamo le cose fatte bene E devo ammettere che sono contento di aver trovato KanKanM Hai avuto sfortuna a trovarmi Se lo dici tu Non so Ti preciso i poteri di KanKanM Dopo me li controllo per bene E Boh non lo so Io quello che vorrei trovare ve l'ho detto è Comastar Ma E' quasi impossibile C'era l'evento per reclutarlo Oh Ragabatrax Perché blu? Ma Ragabatrax blu In teoria E' già di per sé un rango S Quindi Blu perché? Boh non so Dopo vado a vedere Mi informo meglio E un altro oro E chi è? Kirin Ah ok Kirin Ok Sì è buono È buono Mi sembra che Unikirin sia quello che boosta l'attacco E non Kirin Oppure anche Kirin Non so Uno dei due comunque sia Kirin Unikirin sono sicuro E penso che lo metterò in squadra Non è che boosta l'attacco Ma boosta più che altro il punteggio Mi sembra Il che è un'ottima cosa Quando si farma Ok Ho fatto un altro po' di monete Mi servivano giusto Delle monete Per arrivare a 4 e 5 Mi sono fatto male i conti A quanto pare L'ultimo yokai per oggi Poi dopo Farmerò Masterchef Questo yokai E' stato sull'attacco a punteggio Diversi Diversi mesi fa Forse a gennaio Se non sbaglio E lo volevo E finalmente l'ho trovato Quindi Va benissimo così Masterchef All'ogni modo Settimana prossima Credo Caricherò altre pool Magari le faccio di giorno in giorno Non lo so Poi vediamo Come va All'ogni modo Io come sempre Vi ringrazio per aver seguito Anche questo video Cortino Ma chi se ne frega In descrizione come sempre Link per twitter E anche per instagram Dove Costantemente metto aggiornamenti Su quello che trovo Su wibble wobble O su video Così in generale Che carico sul canale Se ancora non siete iscritti Iscrivetevi a noi Ci vediamo come sempre Domani con un nuovo video Bye bye Ciao a tutti 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 Grazie.